buonasera siamo in diretta sul nostro canale youtube questa sera una puntata di approfondimento su un caso di cronaca molto grave molto inquietante in diretta con noi c'è salvo ventimiglia l'ospite buonasera signor ventimiglia igor patruno prego io allora intanto grazie a salvo di aver accettato di raccontare per l'ennesima volta questa storia speriamo che presto si possa arrivare a capire davvero che cosa è accaduto ecco questa storia gira tutta intorno a bagheria bagheria è nota per alcuni personaggi che è facile definire illustri in qualche modo l'immenso poeta dialettale ignazio buttitta che ho molto amato tra l'altro ho letto molte delle sue delle sue liriche e poi vabbè insomma renato guttuso giuseppe tornatore ecco ma ma ci sono anche molti altri personaggi noti e alcuni di questi sono noti per essere finiti sulle cronache di certo non per essere degli artisti o degli uomini di cultura non non va dimenticato che a bagheria c'è stata e c'è temo tuttora una importante cosca palermitana palermitana qui siamo quindi proprio nel cuore più luminoso della sicilia ma anche in quello per certi versi più oscuro io ci sono stato a bagheria più di una volta e devo dire che l'odore dei limoni quando insomma c'è la stagione e soprattutto l'odore del mare è davvero inebriante ma si avverte ovviamente anche l'odore delle numerose attività umane ecco qui a bagheria nel il 31 ottobre del 1981 è nata una bambina con gli occhi azzurri di un azzurro stupendo una bambina allegra vivace che venne battezzata con il nome di giuseppina francesca e che è nota come giusi ecco allora salvo chi è giusi racconta qualcosa di lei tu più volte hai detto che insomma lei per un po è andata a scuola poi ha iniziato a lavorare presto ti va di raccontarla un attimo certo assolutamente sì intanto grazie a voi per l'invito appunto mia sorella giusi è nata il 31 ottobre del 1981 era la più piccola di quattro di quattro figli quindi anche la la cocca di casa infatti a me piace ricordare questo e noi praticamente noi avevamo le scuole l'asilo e le scuole elementari a poche decine di metri da casa eh e io ricordo che eh lei dormiva nella culla giustamente in camera da letto dei miei genitori e io non andavo a scuola se prima non le davo un bacino sulla fronte sulla testa comunque lì le dovevo prima dare un bacino questa era eh era la gioia di casa in quel momento era la gioia di casa eh mia sorella cresce cresce come una bambina normale come come tutte le le bambine era eh contenta era allegra soprattutto allegra stensierata con questi eh riccioli biondi occhi azzurri eh aveva tante amichette sui compagnetti di scuola era sempre fuori a giocare con loro quindi è sempre stata una bambina allegra eh poi è cresciuta è cresciuta anche fin troppo velocemente perché da da dall'essere una bambina sulla culla a diventare una una ragazzina tredicenne eh che ha conosciuto il suo primo amore e dopodiché ha fatto la fuitina cosa è stato un attimo e niente questa era questa era mia sorella giusto ecco lei ha conosciuto un ragazzo adesso non ricordo se ce lo siamo detti che era un po' più grande di lei mi sembra vero eh lei ha lavorato a tredici anni in questa parruccheria faceva l'aiutante esatto della della parrucchiera o del parrucchiera adesso non so e comunque conosce questo ragazzo eh e insomma alla fine ovviamente ottiene il consenso della famiglia a sposarsi e salvo scusa perdono mi rigoro salvo spiega per chi non lo sa cos'è la fuitina perché sennò magari dai la fuitina vabbè ma diciamo che lo sappiano un po' tutti la fuitina è praticamente quando i genitori non vogliono che ehm i due fidanzatini stiano insieme anzi li vogliono proprio separati che cosa fanno il ragazzo e la ragazza scappano fanno la fuitina non fanno altro che scappare mancano una due notti e dopodiché eh i genitori non possono non può sul fatto non possono più fare un passo indietro quindi nasce così la coppia eh e prendono il consenso da parte di entrambi le famiglie ecco quindi eh diciamo che eh diventa presto madre dopo il matrimonio sì eh dopo un paio d'anni due tre anni diventa mamma sì diventa mamma a sedici anni poco più di sedici anni aveva quando è diventata mamma esatto e lei continua a vivere dove è sempre vissuta tra l'altro fino all'età di trentasette anni anche tu sei vissuto diciamo in quella casa una casa ehm per far capire a chi ci sta ascoltando che sotto ha un magazzino che qualche volta ehm è stato diciamo è stato anche ripreso dalle telecamere perché è il magazzino di tuo padre e eh poi c'è un primo piano e un secondo piano lei appunto ha abitato lì al secondo piano e ehm possiamo dire che in qualche modo hm Giussi eh non è mai uscita dalla casa dei suoi genitori sappiamo che eh perché lo avete raccontato anche voi tu tua sorella eh che la vostra mamma aveva una malattia invalidante e che e quindi in qualche modo anche questo un po' appesato no nel vostro diventare adulti no nel nel vostro diciamo rapportarvi un po' con eh con la vita e questa storia va avanti va avanti diciamo il matrimonio eh così un po' come come tante storie a un certo punto eh succede qualcosa cioè comincia ad incrinarsi e a un certo punto eh eh non ho capito quando però insomma tua sorella prende e eh comincia a strappare le foto eh dove è ritratto anche eh suo marito insomma in qualche modo quindi è chiaro che eh c'è stato qualcosa che insomma ha fatto saltare ehm questo rapporto questa relazione ora eh lei è molto coraggiosa perché a un certo punto prende va da un'avvocata e eh e chiede la separazione e ovviamente eh la ottiene ora tu hai detto più volte che in quel periodo vorrei vorrei aggiungere che lei è andata ehm dall'avvocato che poi si è occupato del del suo divorzio accompagnata da quel signore ehm che le frequentava eh in quel periodo eh a cui piace molto cantare ecco ci tengo a dirlo perché eh è così ecco è stato riferito e proprio proprio per questo credo insomma tu abbia detto più volte che in quel periodo tua sorella ha coltivato eh sia ehm durante eh la separazione ma anche dopo eh amicizie con persone che avevano precedenti penali ora che questa persona a cui piace cantare ha eh precedenti penali è un dato oggettivo eh ma anche altri personaggi che lei ha frequentato eh hanno eh precedenti penali attenzione io non credo comunque che mia sorella lo sapesse eh perché non avevano una targhettina con su scritto o precedenti penali li conosceva perché mia sorella frequentava eh un bar eh quindi ci arriviamo questa gente frequentava questo bar quindi lei ha conosciuto questa gente in questo diciamo che questo l'hai scoperto dopo l'hai scoperto quando hai cominciato a cercare di capire che tipo di persone frequentasse eh tua sorella credo che anche i colleghi di chi l'ha visto ti abbiano dato una mano assolutamente insomma insomma ehm il tredici dicembre del duemila e sedici giusi scompare esce di casa sì novembre 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 il tredici novembre del duemila e sedici giusi scompare ed esce di casa alle sette trenta quindi un'ora insomma eh per certi versi è domenica quindi ehm esce molto presto ehm tuo padre che l'ha vista ricorda che era truccata sì ed è quella quella cosa eh un po' l'ha stranito perché effettivamente se guardiamo la maggior parte eh delle foto di mia sorella giusi nella vita di tutti i giorni lei usciva di casa così senza trucco quella quella domenica lui come particolare notò proprio il fatto che era truccata ecco ora eh esce e qui c'è una testimonianza che però viene raccolta ehm da eh Max Franceschelli eh in realtà della vita in diretta viene raccolta con un po' di ritardo rispetto un paio d'anni dopo un paio d'anni dopo 17 mesi dopo 17 mesi dopo 17 mesi dopo ora vuoi raccontare un attimo questa testimonianza dunque ehm io quel giorno era di cose pubbliche eh quindi insomma assolutamente infatti il il 4 aprile del del 2018 era in attesa davanti a casa di mio padre dell'arrivo della troupe della vita in diretta eh con il bravissimo Max Franceschelli eh se nonché eh di fronte a casa mia parcheggia una macchina eh da dove scende una signora che doveva andare in farmacia questa signora si presenta come una mia tra virgolette parente ma è molto larga come parente perché praticamente è la la cognata di una mia cugina di secondo grado ehm dicendomi se c'erano delle novità ehm su mia sorella Giussi io gli ho detto di no gli ho risposto di no gli ho detto che anzi ero lì in quel momento perché aspettavo proprio che stava arrivando la la televisione che dovevamo fare un servizio su mia sorella e lei comincia a dirmi eh io quel giorno l'ho vista l'ho vista uscire dal portone di casa come l'hai vista uscire dal portone di casa sì sì lei è uscita dal portone era una domenica e l'ho vista salire su una macchia scura dico scusa come fai a dire che era proprio quel giorno perché mi 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 risponde che suo nipote compiva un anno il 13 di novembre quindi se lo ricorda perfettamente era in macchina con suo marito stavano eh andando non non ricordo dove e videro mia sorella uscire dal portone di casa e salire su questa macchina scura che l'aspettava davanti al portone di casa ecco ora dobbiamo dire che se non era per te e per eh Max Franceschelli che poi ovviamente l'ha intervistata questa cosa non sarebbe emersa e e noi non sappiamo nemmeno perché noi ne abbiamo parlato salvo noi non sappiamo nemmeno se questa testimonianza è stata verificata dai carabinieri non lo sappiamo io sono andato in caserma certo sì sì tu sei andato in caserma dimmi dimmi però tu il verbale di questa signora non ce l'hai non l'hai letto no no io perché non so non so se i carabinieri poi l'hanno sentita esatto non so se l'hanno sentita e se questa signora ha confermato a loro quella che quello che ha detto a me e quello che ha detto ha ripetuto poi a Max esatto posso fare una domanda scusa posso fare una domanda eh questo episodio salvo capita due anni dopo la scomparsa di tua sorella giusto? sì esatto in questi due anni questa diciamo lontana parente non si era mai fatta viva? assolutamente no assolutamente no la notizia la scomparsa della scomparsa di tua sorella in nel diciamo in bagheria era circolata cioè si sapeva dopo assolutamente sì soprattutto dopo l'intervento di chi l'ha visto perché per per oltre due settimane si lo sopravamo noi familiari della scomparsa cioè quindi parliamo del novembre del del 93 2016 bene dal novembre del 2016 in poi diciamo dicembre gennaio poi del 2017 si era saputo in paese che era scomparsa tua sorella altro che altro che quindi anche questa tra virgolette lontana parente poteva averlo sentito diciamo che sei voci di paese sì 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 assolutamente sì vi siete mai domandati voi in famiglia come mai compare casualmente si fa per dire due anni dopo esattamente quando tu stai aspettando una troupe perché esatto no ma allora intanto non lo sapeva nessuno che io quel giorno aspettavo una troupe lei ha fermato una macchina perché stava andando in farmacia lei stava andando in farmacia perché proprio accanto a casa di mio padre c'è una farmacia lì mi ha visto e mi ha chiesto ma nel corso di questi anni voi nemmeno immaginate quanta gente mi ha fermato dicendomi ah io ho visto tua sorella io ho visto tua sorella tua sorella parlava con questo tua sorella parlava con quello ma scusate ma se cosa è piuttosto che venire a dirle a me perché non andate non andavate dai carabinini a dire queste cose perché perché vi siete tenuti tutto dentro capito però la questione la sua è una testimonianza decisiva non è una testimonianza su diciamo chi vedeva tua sorella voglio dire questa testimonianza del giorno della scomparsa all'ora della scomparsa oh lo scherziamo esatto calcolate calcolate comunque che eh che mia sorella è scomparsa si è saputo qualche giorno dopo quindi anche ai parenti amici qualche giorno dopo è arrivata la la notizia però io perché sono andato dai carabinieri il giorno dopo se non il giorno dopo un paio di giorni dopo a verbalizzare a raccontare questo episodio proprio perché non è che tu mi vieni a raccontare a me una cosa a me mi racconti sta cosa la racconti davanti alle telecamere e poi ai carabinieri dici o mi sono confusa o ho sbagliato data oppure non è vero niente me lo sono inventato per quello dico io se qualcuno mi viene a raccontare una cosa se non hai il coraggio tu di andare dai carabinieri ci vado io tranquillo poi sta ai carabinieri a fare quello che è il loro lavoro quindi su quello non ci piove sono andato un sacco di volte dai carabinieri a raccontare quello che accadeva tantissime volte eh vedi max qui c'è un dato importante no il dato importante è che al fratello della persona scomparsa poi tieni presente che ora si sta indagando eh si è continuato ad indagare per molto tempo appunto per omicidio eh non sono state fornite eh niente insomma non sono state fornite le carte ora io ho conosciuto eh numerose persone eh nella nelle condizioni di eh salvo e devo dire che queste persone non a caso una eh in particolare no che è Matteo Marzoli che è il fratello di Alice Neri beh queste persone sono state non solo informate dalla procura su quello che stava accadendo ma di più cioè eh l'avvocato è stato informato venivano chiamate ecco questo a salvo non è accaduto e questo dato io lo trovo abbastanza inquietante anche per quello che poi racconteremo tra un po' perché eh avere la certezza che una testimonianza viene verificata eh dall'autorità giudiziaria siano carabinieri siano la polizia siano quello che che vogliono loro è fondamentale perché salvo lo deve sapere se eh sua sorella è stata effettivamente vista da questa eh parente da questa persona che in realtà poi appunto come tu sottolineavi si è presentata con un po' di ritardo direi no? Due anni assolutamente sì due anni ma proprio per questo è una testimonianza che va verificata va vagliata e e invece eh diciamo che salvo questa consolazione cioè di sapere se eh davvero l'autorità giudiziaria ha al momento non ce l'ha ecco speriamo che questa situazione eh cambi ora noi dobbiamo dire che c'è un'altra persona che invece questa si si fa avanti in qualche modo subito no? Perché eh credo che salvo metta eh chieda no? Metta una sorta di annuncio su Facebook mi sembra no? Eh e chiede chiede se qualcuno ha visto la sorella e si fa avanti una persona ora ovviamente noi non facciamo il nome di questa persona però è una persona credibile non è vero salvo? Eh parli del del post recente? Assolutamente sì. Parlo parlo di chi vede tua sorella alle dieci e trenta ecco. Ah no quello non eh quello direttamente lì in paese sapevano tutti che mia sorella frequentava eh praticamente un un posto ben preciso e in quel posto lei conosceva questa persona eh Floriana eh che era additata a tutti come la sua migliore amica visto che passavano giornate intere eh e in questo caso ehm sia ehm mia sorella che l'altro mio fratello insieme con mio padre e anche l'ex cognate mia sorella si recano da lei a eh sapere a vedere se sapeva qualche cosa e lei lì raccontò di averla vista quella domenica intorno alle dieci e mezza hanno preso un caffè insieme e insomma e compagnia bella. Qui a differenza della lontana parente che si fa avanti tra virgolette un paio d'anni dopo questa i ricordi li aveva freschi freschi proprio a livello di eh a livello del che è praticamente due giorni dopo aver parlato con lei mio padre va in caserma e va a fare un'integrazione della denuncia di scomparsa dicendo le parole riportate da questa persona che però si sbaglia e però si sbaglia si sbaglia è strano il fatto che si sbagli che io mi posso sbagliare su una cosa di tre mesi prima ma tu sei una cosa di qualche giorno prima perché si parla di qualche giorno prima eh parliamo dell'integrazione del 17 novembre del del 2016 quindi parliamo di nemmeno quattro giorni dopo cioè è strano che tu dici una cosa e poi ne dici un'altra e poi ne dici un'altra ancora e poi un'altra ancora eh cioè io dubito delle persone che parlano parlano e cambiano continuamente aggiustando a seconda di dove dire al vento ecco salvo possiamo dire che curiosamente si sbaglia ma l'errore che fa è un errore piuttosto grave ma io direi scusate se non ho capito probabilmente anche altri non hanno capito non perché ma perché se forse non si è capito bene cioè voi date un po' per scontato delle cose che giustamente no no ma ancora dovevamo dire la cosa più importante ovvero che l'errore che avete detto vorrei sapere una cosa questa persona che era l'amica diciamo così intima di tua sorella salvo a voi la raggiungete tre quattro giorni dopo la scomparsa di giusi dico bene e andate se ho capito bene tu tuo fratello tuo cognato e tuo padre io non c'ero io non c'ero vanno mia sorella mio fratello l'ex cognate allora cosa è successo a cercare sta donna no non cercavano quella non cercavano questa donna cercavano i luoghi che mia sorella frequentava e li chiedevano informazioni perché noi quello che era la vita di mia sorella fuori dalle mura domestiche era praticamente sconosciuto non sapevamo nulla di chi frequentava e chi non frequentava non sapevamo assolutamente nulla quindi recatosi al bar perché noi sapevamo che mia sorella era sempre in quel bar le persone ci hanno detto chiedete a floriana chiedete a floriana stava sempre insieme a floriana chiedete a floriana perché erano sempre insieme e floriana entra ecco perché quindi quindi diciamo questa la tua famiglia incontra floriana perché viene indicata per essere la migliore amica di tua sorella e floriana fa un racconto un racconto un racconto quello quel racconto voi lo riferite tuo padre sono capito bene lo riferisce certo trasmette in qualche modo all'arma dei carabinieri per integro la scomparsa o questo dopodiché i carabinieri chiameranno floriana immagino no ovvio hanno chiamato floriana e da lì hanno la quale floriana però non conferma quello che ha detto lei conferma solo che le sue parole vengono smentite dal fatto che i carabinieri attraverso le indagini che hanno fatto hanno saputo che dal primo ottobre di quell'anno il bar la domenica era chiuso quindi lei se il bar la domenica era chiuso non poteva aver visto mia sorella non poteva aver preso il caffè con mia sorella la domenica del 13 ovvio quindi ha mentito clamorosamente questa cosa adesso questo lei poi dice di essersi confusa lei poi dice di essersi confusa non era non era la domenica era il sabato andava bene andava bene ugualmente se lei comunque l'aveva vista andava bene ugualmente anche se l'avesse vista il sabato e non la domenica importante che lei ha aggiunto che fino a pochi giorni prima di scomparire mia sorella si vedeva con un signore di figarazzi che è un paese vicino il mitrofo a bagheria questo signore faceva l'operatore ecologico e persino amici su facebook tra l'altro sì sì l'ho visto l'ho visto ha mandato ha mandato anche un messaggio un po particolare comunque adesso questo non vogliamo entrare in diciamo questi 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 dettagli resta il fatto che questa floriana eh indica questo questa persona che abita in un paese che sta a circa tre chilometri e mezzo eh tre chilometri tre chilometri e mezzo da da bagheria lo indica e gli dice guarda lui passava spesso a prenderla con eh la macchina questo signore viene sentito noi purtroppo in mancanza delle carte dobbiamo fare affidamento al lavoro eh dei colleghi no viene sentito dai colleghi di chi l'ha visto e i colleghi di chi l'ha visto glielo chiedono naturalmente e lui risponde da una risposta diciamo parziale lui dice sì è vero ma io mi mi limitavo a darle dei passaggi no questo è un altro signore questo è un altro signore quello che è quello dei passaggi era un altro signore eh quello di Ficarazzi ha risposto solo al telefono da solo al telefono solo al telefono e ha detto che tutto quello che ha detto alla giornalista era vero erano amici si vedevano però non voleva essere infangato in nessun modo e tutto quello che sapeva lo ha riferito ai carabinieri punto oltre questo poi muto come una tomba non abbiamo saputo niente niente nemmeno quello che ha dichiarato ai carabinieri però almeno ha riferito ai carabinieri e questo già è abbastanza importante ora va detta una cosa che appunto all'inizio si pensa davvero semplicemente a un allontanamento volontario questo è quello che magari i primi giorni pensa anche la famiglia e poi però l'autorità giudiziaria continua a pensarlo in realtà continua a pensarlo fino ai primi di gennaio perché poi ai primi di gennaio finalmente ci si convince che probabilmente non è un allontanamento giudiziario e infatti volontario esatto un allontanamento volontario e infatti eh accade qualcosa di importante arrivano eh vari militari eh fanno una ricerca fanno una ricerca a tappeto trentacinque uomini no? Beh mi hai detto eh alcune unità cinofile cercano cercano ma eh ovviamente eh non trovano eh tua sorella ora questa storia tutta scusami se mi permetto tutta questa mobilitazione è durata quattro cinque ore quattro cinque ore nove gennaio 2017 e poi il nulla e poi il nulla cioè io l'ho presa io guarda io il giorno dopo ho fatto una diretta eh con con chi l'ha visto perché all'epoca avevano una striscia quotidiana cioè io l'ho presa come una beffa perché ho detto se tu inizi delle ricerche almeno le devi continuare ogni giorno per un tot numero di giorni fino a che veramente non trovi nulla ma dopo quattro cinque ore che cosa devi trovare dieci dieci ettari di terreno ecco mi hai tolto una domanda mi hai tolto mi hai anticipato una domanda che voglio farti ehm che area eh venne diciamo delimitata per queste ricerche che si cercò nelle campagne di Bagheria altrove dove è che si cercò? È una zona è una zona è alla periferia di Bagheria questa è zona dolce e impoverile eh contrada Cordoba eh contrada Monaco e tutto tutto un appezzamento di di terreno eh per lo più eh abbandonato dove dove ci sono dei ruderi dove c'è eh dove c'è una discarica a cielo aperto dove ognuno va a scaricare tutto quello che può c'è c'è qualche bilino a destra e sinistra ci sono ehm ehm gente che ha delle stalle dei cavalli insomma è un una parte eh rubando eh le parole che ha usato un signore una zona proprio abbandonata da Dio e anche dal comune di Bagheria voglio dire non capisco il senso voglio dire fuori Bagheria allora perché perché la cella telefonica del di mia sorella ha agganciato quel luogo luogo ah quando eh ehm tra il 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 12 il 12 novembre 12 13 novembre noi non abbiamo neanche la certezza di quando la cella di mia sorella ha agganciato quel luogo però quello è il luogo quello è certo non c'è andata per cioè non è un posto che lei potesse frequentare per qualche motivo allora no da quello che sappiamo lei frequentava quel luogo perché naturalmente è diciamo così è un luogo lontano dagli occhi di tutti e lei poteva lì incontrare le persone che frequentava c'è ma boh si è possibile sicuramente ma secondo te è andata così cioè veramente poteva andare in un posto come quello tua sorella cioè non è che c'era voglio dire Bagheria offre anche tante altre cose non per forza la campagna io penso penso che se fosse andata in un luogo frequentato forse avremmo avuto più gente eh a vederla quindi quello è il discorso però il discorso è se tu eh tu sai che la cella di del telefono di mia sorella ha agganciato quel luogo lo sai due mesi dopo lo sai due mesi dopo cioè io so che se io adesso mi perdo eh mia moglie fa una denuncia eh cioè dopo dopo qualche ora sanno eh riescono a localizzarmi perché dopo due mesi quando poi noi abbiamo una testa per strage di Capaci i telefoni di Antonino Gioè e di altri vennero rintracciati cioè non loro non si sapeva di chi fossero perché erano tutte utenze clonate però dei telefonini lì vennero rintracciati la sera stessa cioè vennero individuati e qui parliamo di trent'anni prima parliamo di trent'anni prima sì la strage di Capaci e qua siamo siamo nel duemilasedici quindi cioè dico se volevano sapere volevano sapere dove dove era mia sorella dopo la denuncia eh potevano saperlo anche subito noi abbiamo saputo eh noi abbiamo saputo attraverso un testimone che la domenica del tredici lui afferma di aver visto mia sorella era insieme con la moglie era di aver visto mia sorella percorrere a piedi via del fonditore via del fonditore è esattamente la strada che porta alla strada comunale dolce impoverile ah verso lì dove dopo dove dopo l'han cercato esatto 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 era lontano da casa vostra lì quella zona eh sì almeno almeno un paio di chilometri cioè si fanno a piedi maio di chilometri ma tua sorella sì vabbè due chilometri sì 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 no ma dico era il suo costruccio lei normalmente sì mia sorella era una non aveva la patente non portava la macchina ma era una camminatrice impressionante quindi è plausibile che si è andata lì a piedi per esempio quella sì 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 poi è stata è stata anche vista anche da un'altra persona eh che praticamente ehm faceva da abbadante a due persone che hanno il villino lì vicino eh la vedevano la vedevano spesso lì più di anche guardi eh io una volta eh sono andato lì vicino c'è anche una 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 un'azienda che si occupa di vetro una volta andai lì a ehm per farmi sostituire il vetro di un tavolino che si era rotto e eh la segretaria o la la proprietaria che si trova lì in quella in quell'azienda appena mi vide eh mi mi riconobbe subito perché mi aveva visto in tv ehm e mi disse che lei vedeva spesso mia sorella fare percorrere quella strada perché la strada guarda mi poteva incontrare lì c'è un nome qualcuno cioè avete si fatto un'idea vi siete fatti un'idea di chi perché lì vabbè andava lì ma incontrava qualcuno cioè per spiegare per spiegare tutta questa storia bisogna capire un attimo che allora questo bar dove che lei frequentava tra l'altro lì c'era anche una sala scommesse a venti metri trenta metri no no proprio attaccati attaccati muro con muro muro con muro scommesse di che tipo non ho capito sala scommesse di cavalli scommesse scommesse vario tipo è una sala scommesse c'è scritto sala scommesse fuori ma clandestina o no 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 non facciamo pubblicità però ce n'è in tutta Italia eh che portano quel marchio è un marchio famoso ecco è un marchio eh sì è un marchio famoso ora eh questa eh diciamo questo bar si trova praticamente in una strada che si chiama via Capitano Emanuele Basile via Capitano Emanuele Basile come ti puoi immaginare eh eh dedicata a un carabiniere e lì c'è tra l'altro la caserma dei carabinieri proprio di fronte proprio di fronte questo bar sta lì insomma no non è che è particolarmente giusto andiamo in un bar di fronte alla caserma dei carabinieri ho capito bene esatto esatto ora praticamente percorrendo questa strada cioè via Capitano Emanuele Basile cioè quindi lasciandosi alle spalle la caserma dei carabinieri si eh arriva praticamente a via del fonditore via del fonditore è la strada che percorrendola poi eh si eh in qualche modo si trasforma nella sta nella strada provinciale 87 ovest che porta a Ficarazzi però nel farlo attraversa le zone che ti stava raccontando Salvo ho detto giusto Salvo è così no? Esatto esatto ecco quindi eh quella quella zona che è una zona molto particolare no? Perché eh se tu ti metti a seguirla a guardarla ci sono case isolate c'è eh una rimessa di tir ci sono dei magazzini appunto come diceva Salvo insomma comunque è una zona abbastanza deserta no? Abbandonata per 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 capirci no? Poi ci sono campi in parte coltivati in parte no quindi è comunque una zona esterna che si allontana sempre di più e e e praticamente occupa quello spazio se vuoi vuoto occupato da attività agricole appunto da da magazzini ci sono anche eh eh diciamo capannoni industriali che separa e questo è interessante invece eh bagheria da Ficarazzi ecco questa è un po' eh la situazione ora torniamo un attimo però alla storia eh la storia ci dice questo ci dice che intanto eh questa vicenda è stata seguita da quando è iniziata da ben quattro magistrati esatto il primo magistrato ha eh indagato per sequestro di persona e ha indagato per sequestro di di persona se non ricordo male salvo per per trentuno mesi e per trentasei mesi quasi praticamente tre anni per tre anni per tre anni poi a un certo punto eh arriva un altro magistrato e eh l'oggetto del fascicolo cambia e diventa omicidio ecco a questo punto accade qualcosa di sgradevole per Salvo e per la sua famiglia perché Salvo si accorge che in realtà ehm i carabinieri eh stanno in qualche modo facendo domande su suo padre i carabinieri e quindi il PM perché poi è il PM che dà indicazioni a ai carabinieri e questa cosa fra l'altro insomma io ricordo che per la prima volta ho sentito la tua storia lì quando sei appunto andato a chi l'ha visto e hai un po' raccontato quello che stava accadendo e quasi quasi in in diretta ecco eh e poi insomma eh ci sono altri due magistrati l'ultimo magistrato eh che eh si chiama se non vado errato Danilo Angelini che se ne sta occupando fra l'altro eh Salvo e eh la sua famiglia hanno presentato una eh memoria difensiva questo credo nel duemilaventidue ventuno 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 novembre duemilaventuno quindici novembre del duemilaventuno presentano questa memoria difensiva e insomma dal da quello dall'atmosfera che loro riescono a ricostruire pare che si stia andando verso una archiviazione ma questo già due anni fa e questo già due anni fa questo già due anni fa d'altra parte fra l'altro tuo padre non aveva nemmeno ricevuto un avviso di garanzia non l'ha mai ricevuto un avviso di garanzia niente di niente questo dato adesso per carità i carabinieri i PM eh sono chiamati a fare questo lavoro grande rispetto ma eh eh resta il fatto che eh al momento eh il papà di Salvo non ha ricevuto nulla e eh e sembra che appunto eh le indagini si siano in qualche modo eh fermate ecco ora o comunque siano arrivati a un punto morto oltre il quale non 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 si riesce ad andare chiariamo un attimo però perché eh eh tuo padre eh in qualche modo viene eh le indagini si eh diciamo perché suscita un interesse investigativo ecco suscita un interesse investigativo per una storia precisa la vuoi raccontare Salvo partendo proprio dall'inizio quando tuo padre scopre che cosa è accaduto? Allora mio padre scopre nel nel novembre del 2015 che eh dalla sua cassaforte una piccola cassaforte che ha creato lui in un intercapedine mio padre faceva il fabbro quindi fabbro proprio di quelli antichi che lavoravano il ferro proprio a mano eh con il ferro sulla forgia ehm ha costruito questa piccola cassaforte in un intercapedine e gli metteva i documenti quelli più importanti e anche ehm loro di famiglia eh ci teneva appunto il Bancomat e i suoi contanti eh nel novembre del 2015 scopre che il Bancomat eh non c'era più il Bancomat conteneva la sua liquidazione perché lui aveva lavorato dieci anni in una ditta eh la ditta ha chiuso e la sua liquidazione ehm era dentro quel Bancomat quel Bancomat non c'era più quindi in assenza del Bancomat eh lui ha dovuto fare denuncia eh di furto ehm e ha dovuto dichiarare ai carabinieri che l'unica persona che in quel momento abitava eh a casa eh con lui era la figlia Giussi il figlio aveva eh poco meno di di sedici anni e mia madre era allettata eh quindi questo era scritto nella denuncia che verosimilmente eh a prendere il Bancomat era stata eh mia sorella Giussi in merito a quella denuncia eh poi eh mio fratello con l'altra mia sorella cercando tra i vari cassetti si sono resi conto che c'erano delle ricevute di alcuni buoni fruttiferi che mio padre anni prima precisamente nel 2007 eh praticamente erano gli arretrati della dell'invalidità di mia madre aveva messo aveva cointestato a mia sorella Giussi e all'altra mia sorella mia sorella Giussi tra la fine del 2012 e l'aprile del 2013 ha riscosso quei buoni fruttiferi per un ammontare di 10.000 e passa euro cosa che noi non ci siamo mai accorti dico noi ma parlo per quanto riguarda mio padre non si è mai accorto di nulla perché mia sorella non ha mai fatto la bella vita mia sorella non ha mai non è mai andata dal parrucchiere non comprava abiti firmati non comprava borse non andava al ristorante niente di niente anzi stava sempre lì a chiedere a tutti a destra manca le le tre cinque euro per comprarsi le sigarette quindi per quello nasce la mia la mia ipotesi che lei quei soldi li abbia dato a qualcuno ora cosa succede naturalmente il progetto fiammati un attimo c'è la certezza che davvero tuo sorella li abbia presi c'è una prova è stato questo quello è registrato l'unica l'unica prova che abbiamo è la la firma la firma sul sulle ricevute e sulle ricevute dei buoni fruttiferi sì ho capito ma il buon fruttifero per per trasformarlo in banconote e devi incassare qualche parte si soldi no cioè non è che andava andava alla po alle poste dove dove il libretto era praticamente quei buoni fruttiferi erano facevano erano su con addebito con addebito su un libretto che era libretto di mio padre dove erano cointestati mia sorella giusi con con l'altra mia sorella quindi solo loro che è cioè voglio dire dimostrato che è stata tua sorella a prendere quei soldi sì le ricevute erano nei cassetti di mia sorella giusi su quello non ci piove poi il discorso il discorso ok va bene l'assurdità qual è però l'assurdità qual è che mentre per quanto riguarda il bancomat hanno i carabinieri avevano la certezza che a prendere il bancomat era stata mia sorella e lì c'era il c'era il capo di imputazione e la sostituzione di persona perché il bancomat era intestato a mio padre quindi lei sostituendosi a mio padre ha fatto prelievi ha fatto acquisti eccetera eccetera nei buoni fruttiferi i buoni fruttiferi visto che erano cointestati a lei lei era la la l'intestataria e poi cointestati all'altra mia sorella quelli i carabinieri mi hanno detto siccome erano intestati a lei c'è tra virgolette erano soldi suoi poteva tranquillamente prelevarli non ce ne frega niente questo è il il banco ma doveva averci anche la password cioè tuo padre aveva lasciato tanto il banco mio padre allora la password mia sorella giusi la conosceva perché comunque era lei quando mio padre doveva prelevare si andava insieme con mia sorella giusi cioè mio padre metti metti mio padre ha distrutto tre telefonini per non saper usare il telefonino per farvi capire quindi mio padre teneva il bancomat nella cassaforte mia sorella sapeva il codice del bancomat c'è da valutare tutto scusa salvo ha prelevato molti soldi dal banco no te domando perché allora la somma diventa ancora nel bancomat c'era c'erano più o meno più o meno diecimila euro e li ha prosciugati tutti nel giro nel giro di tre mesi praticamente quindi diecimila del banco più diecimila dei buoni fruttiferi insomma la somma è importante sono ventimila passato esatto però quei buoni fruttiferi sono di tre anni prima rispetto al bancomat però per quanto riguarda il bancomat per quanto riguarda il bancomat la storia è un pochino diversa nel senso che lei lo ha materialmente preso dalla cassaforte e poi l'ha dato in mano alla persona che poi li ha spesi questo è un po brutale scusami eh se te la faccio hai detto che questo bar aveva anche una sala scommessa giusto esatto tua sorella per caso scommetteva no allora mia sorella non aveva il vizio del gioco non beveva non si drogava tra virgolette non aveva nessuno di questi vizi ma proprio zero e poi tra virgolette quello che dico io se mia sorella avesse avuto il vizio del del gioco questa già sarebbe stata una prova che penso ci avrebbero messo già le carte in mano ci avrebbero detto ecco i soldi se li hai giocati tutti qua c'è abbiamo abbiamo come abbiamo dei riscontri che ci fanno capire che questi soldi se li hai giocati tutti invece no no assolutamente no ecco quello che salvo pensa è che ovviamente siccome lei se non vado errato salvo aveva ricevuto un atto da parte diciamo di chi stava indagando sull'uso di questo banco matt è che lei ci sia detta ma insomma perché io devo questa è l'ipotesi ovviamente che fa salvo perché io devo pagare per qualcuno che magari a cui io magari ho dato no perché c'era girata la possibilità di utilizzare questo banco matt e quindi salvo pensa che possa averlo contattato e che possa avergli chiesto la restituzione magari no dei dei soldi o comunque forse ha provato anche più e più volte a chiedere la restituzione esatto forse ha provato anche più e più volte il ricordo qual è il mio sì prego salvo prego prego prima che mia sorella scomparisse mio padre ricorda perfettamente che nei giorni precedenti lei ricevette la visita dei carabinieri che le notificarono qualcosa infatti all'inizio se poi vogliamo dirla tutta all'inizio mio padre pensava che fosse scappata mia sorella mia sorella proprio per questo e se devo dirla tutta anche io onestamente pensavo quello ma pensavo più che pensavo che proprio essendo riferita a quello magari nel giro di qualche giorno mia sorella tornava saltava sicuramente trovata mai e poi mai avrei pensato ad un ad una fine così scusa ma i carabinieri gli hanno segnalato che cosa un ipotesi di reato di appropriazione indebita di di che cosa non ho capito sostituzione di mia sorella giusi è stata iscritta nel registro degli delle notizie di reato già il il 31 maggio del 2016 31 maggio del 2016 quindi molti mesi prima di quando scomparso esatto esatto più o meno se ci facciamo i calcoli sei mesi più o meno e sono sei mesi sono i mesi delle indagini preliminari quindi concluse le indagini preliminari penso io ripeto sono sempre ipotesi perché nulla abbiamo in mano non abbiamo in mano nulla quindi questa sorella si è portata via anche il documento perché in realtà i carabinieri gli hanno notificato con un documento non è che hanno detto signorina buongiorno succede questo noi di questa cosa allora l'avvocato l'ex avvocato di mia sorella giusi ha provato a cercare qualcosa ma non ha trovato nulla non ha trovato nulla non ha trovato nulla e lo so che è strano lo so che è strano eppure mio padre ricorda perfettamente che mia sorella ha ricevuto la visita dei dei carabinieri se lo ricorda perfettamente sì poi oltretutto le comunicazioni di reato devono essere mandate in una maniera formale ci deve essere proprio un atto che si chiama comunicazione dell'avviso del reato non è che passano ti dicono i carabinieri guardi che lei è indagato pure lei sarà rinviata a giudizio non funziona così e siamo in italia insomma le leggi vagano c'è un codice di procedura penale max questo lascia pensare che lei magari questo atto lo abbia portato a qualcuno ad esempio no potrebbe anche per loro in casa non l'hanno trovato ora vanno dette altre due cose prima di in nove minuti e vanno dette due cose esatto la prima la la possiamo liquidare subito c'è un collaboratore di giustizia che ad un certo punto nel 2020 viene sentito da anche anche lui credo da chi l'ha visto no e racconta una cosa molto particolare cioè dice a bagheria giravano tante voci su giusi c'era un soggetto lui non mi conosce io lo conosco molto bene lo definisce in un certo modo che ora non ripetiamo e aggiunge che questo soggetto utilizzando un termine gergale no impiattava impiattava giusi ovvero la faceva in qualche modo prostituire con dei vecchietti e qui naturalmente tira fuori il suo essere appartenuto no a una cosca mafiosa quella di bagheria lui dice noi dicevamo vuoi fare l'uomo prendi una pistola vai in banca fai una rapina no ma non ti metti a far prostituire una ragazza tra l'altro evidentemente aveva capito fragile con dei vecchietti questa roba altro che che uomini d'onore questa roba è proprio no quanto per essere ammazzati in cosa nostra la roba del genere io vorrei vorrei accennare brevemente come è saltato fuori il collaboratore di giustizia ecco un giorno mi contatta una giornalista di una di una testata online meridio news dicendomi salvo ti contatto per questo motivo qua io stavo facendo stavo conducendo messi prima un'inchiesta per quanto riguardava le falle nei sistemi di protezione proprio dei collaboratori di giustizia contatto questo collaboratore di ex collaboratore di giustizia e parlando del più del meno lui mi accenna a a a questo discorso mi dice testuali parole io vorrei capire come mai non mi hanno mai chiesto nulla della scomparsa di giustizia questa giornalista mi dice che lì per lì non sapendo la storia non sapendo di che cosa parlava e soprattutto era interessata a quello che era il l'argomento per cui aveva contattato questo ex collaboratore di giustizia aveva lasciato perdere se non che per puro caso vedendo i miei soliti post perché io per tenere comunque vivo il ricordo di mia sorella e l'attenzione usando soltanto quello che posto i social vive un post di mia sorella e ricollegò questo fatto con quello che che gli disse questo ex collaboratore di giustizia lei me ne parlò io le dissi di approfondire e lei infatti poi lo intervistò e fece un articolo intero o proprio un'intervista intera con questo collaboratore di giustizia ora io con l'articolo in mano andai dai carabinieri e andai a fare la mia solita deposizione il mio solito verbale loro si scrissero parola per parola quello che lui aveva dichiarato in questa intervista naturalmente la cosa venne fuori perché comunque c'era questo articolo ed ecco che di conseguenza chi l'ha visto ha voluto anche approfondire intervistandolo proprio personalmente seppur di spalle ma personalmente ecco come è saltato fuori il collaboratore di giustizia sì però salvo a me lascia molto per pressa sta storia l'ho letta e ti devo dire perché per quello che io ho seguito molte vicende di mafia negli anni passati il cosiddetto pentito quando ha da dichiarare dichiara tutto quello che sa in generale in generale il magistrato dice va bene adesso vuoi raccontare mi racconta mi racconta da la z dopo la z non c'è più niente cioè non è che dopo ti ricordi per sentito per aggiustare lo so questo è il metodo me ne sono fatto un'esperienza anch'io sì sì me ne sono fatto un'esperienza quindi che abbia posto questa domanda retorica alla giornalista dicendo perché non mi hanno chiesto di giusi lo scherziamo eh cioè lui avrebbe dovuto l'altro in cui si fosse diciamo pentito delle proprie azioni criminali dire inoltre so anche questo non c'entra magari con le vicende criminali della cosca ma c'è anche sta storia qua e non l'ho non l'ha detto tutti gli effetti no viene fuori solo infatti sono pienamente d'accordo pienamente d'accordo anche in questo mi sono fatto un'esperienza ormai chiunque salta fuori che dice so questo so quello ormai io prendo tutto con le pinze ecco c'è però una testimonianza importante c'è una testimonianza importante perché chi la fa è una persona eh nota all'autorità giudiziaria questa testimonianza eh fa riferimento ad un fatto preciso lui in una zona di bagheria eh ha visto un soggetto cioè questo quello che dice diciamo questo questa persona ha visto un soggetto avvolgere qualcosa di rosso noi dobbiamo ricordare che tua sorella era uscita con una mantellina rossa poi aveva dei jeans delle scarpe da ginnastica che potrebbe essere appunto un maglione ma anche un mantello e metterlo all'interno della propria macchina e descrive anche questa macchina ora esatto tu il 20 febbraio hai fatto un post che inizia così prima o poi qualcuno dovrà spiegarmi perché i primi di dicembre del 2016 un uomo si presenta nella caserma dei carabinieri di bagheria e racconta ora sembrerebbe che non c'è il verbale di questo e per quello mi ha contattato questo signore per questo mi ha contattato e eh a differenza di di chiunque altro questo signore è è comunque una persona titolata eh per me non è il primo che passa eh è qualcuno che comunque con con le forze dell'ordine ha avuto a che fare eh visto il suo lavoro quindi ora io se sono tutti mitomani se sono tutti millantatori questo non spetta a me dirlo lui afferma delle cose lui afferma delle cose che se sono vere qualcuno prima o poi mi dovrà dare quelle risposte che io voglio che io voglio che la famiglia Ventimiglia vuole scusa salvo per un'ultima domanda vorrei porre molto velocemente questo testimone oculare che di questo stiamo parlando no di un evento ha riconosciuto la persona che aveva diciamo questo fagotto sa che ci ha detto sì l'ha riconosciuta l'ha riconosciuta c'è un nome e un cognome di colui che aveva insomma sto fagotto in mano o quello che era insomma esatto ha parlato in sostanza quello che non ho capito se in questa testimonianza tuo signore parla di un corpo o parla cosa vuol dire una cosa no 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 parla solo parla solo di una di un accessorio che mia sorella indossava la domenica dell'abito una parte dell'abbigliamento diciamo e questo succede quanti giorni dopo la scomparsa di tua sorella relativamente pochi giorni relativamente pochi giorni dopo ho capito e non c'è nessun verbale dei carabinieri che diciamo che chiarisce questa cosa nonostante lui sia andato e lui è andato lui afferma questo di essere andato e da quello che ormai io ho ho potuto capire dalla mia esperienza che mi sono fatto in sette anni e passa ci deve essere comunque un'annotazione da parte dei carabinieri sì obbligatoria ci dovrebbe essere un verbale insomani qualcosa ci deve essere perché ripeto non è che non è che è andato il primo è la prima persona che passava a raccontare la storiella è andato una persona illustre a raccontare questa cosa ed ecco per quello io non capisco ora anche questa persona qui chi glielo fa fare di metterci la faccia vista la sua professione e visto quello che ha fatto in tanti anni di carriera a dire questa raccontare questa cosa qui assolutamente no è fuori dubbio che stai dicendo la sua verità ci dicono cosa che lui vede a vista del reale insomma quindi per concludere sono le 22 30 salvo vediamo se riusciamo riesco a sintetizzare veramente in venti secondi tua sorella scompare una tua parente dice di averla vista ma in realtà se l'ha inventata diciamolo è insomma o almeno non lo sappiamo la mica non lo sappiamo io prima o poi lo prima o poi lo leggeremo questo questo verbale questo questo fascicolo mica intima dice quella mattina di quella domenica ha bevuto caffè insieme invece non è vero perché il bar era chiuso punto dopo un anno muore in più dopo un anno muore chi muore scusa questa ragazza l'amica intima di mia sorella un anno dopo la scomparsa muore inspiegabilmente senza sapere come muore così all'improvviso muore così esatto 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 e quindi in sostanza si può dire che si branco nel buio questa è la verità insomma no però è emerso qualcosa potrebbe sembrare un movente dell'omicidio ovvero sia che sono scomparsi circa 20 mila euro che appartenevano a tuo padre questi soldi per quello che ho capito che tu hai raccontato deve averli per forza prelevati tua sorella con questi soldi non li ha spesi per sé quindi a qualcuno li averli dati tranne che li abbia bruciati in gabinetto cosa che non credo probabilmente anzi direi che è molto probabile questo abbia chiesto indietro questo denaro una volta che vi siete accorti che mancavano sti soldi è andato dalla persona tua sorella ottico ha chiamato insomma la persona a cui gli aveva dati sti soldi e questa persona a questo punto con un momento molto solido l'ha uccisa purtroppo potrebbe essere questa insomma la dinamica di quanto questa è quella questa è quella l'ipotesi che io avvaloro maggiormente accidenti una brutta storia io ricordo comunque che sono trascorsi sette anni e quattro mesi dalla scomparsa di mia sorella e ad oggi noi non abbiamo ricevuto da parte della procura nessuna risposta niente di niente nonostante in quanto persona offesa nonostante in quanto persona offesa io oltre due anni fa abbia fatto richiesta attraverso il mio avvocato di essere messa al corrente nei limiti nei limiti che la procura può del procedimento del procedimento in corso anzi tutto al contrario hanno ipotizzato che l'assassino fosse stato tuo padre in pratica sì perché se parliamo di statistiche il conto è fatto perché poi se noi andiamo a guardare ora voglio essere un po polemico in questo ogni giorno ci sono casi di cronaca i più diversi più disparati e poi si mette sempre la persona più vicina il compagno l'ex compagno il fratello in questo caso il padre il movente o è la gelosia o è questo in questo caso sono i soldi quindi mio padre è stato l'ultima persona a vedere l'uscita di casa mia sorella ha derubato mio padre il momento è fatto è stato mio padre a far scomparire mia sorella e probabilmente se l'ho dimenticato io 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 mezza parola mezza parola contro mio padre non la posso dire perché mio padre nella sua vita tutto ha fatto perché essere una persona cattiva o una persona violenta o un ubriacone o un giocatore d'azzardo o un maniaco sessuale o tutto quello che vogliamo andiamo dalla parte più debole io onestamente credetemi io spero veramente che la procura abbia indagato a 360 gradi e che la tra virgolette eh questione mio padre sia facesse parte dei tre della delle delle indagini a 360 gradi perché se la procura si è concentrata solo ed esclusivamente su mio padre non avendo trovato riscontro in niente perché poi tra virgolette oh non ci sono prove non c'è non c'è stata non c'è nemmeno una prova su mio padre io guardate che non si sono non hanno mai sequestrato nulla non hanno mai sequestrato telefoni non hanno mai sequestrato auto non hanno mai sequestrato terreni non hanno mai non hanno mai fatto niente di niente non si sono mai visti risse dico io queste sono le indagini queste sono le indagini per la scomparsa tra virgolette uccisione di giusi ventimiglia con in più il dolore di vedere accusata una persona che ovvio io sarei come dicevo l'altra volta Igor io sarei stato il primo io sarei stato il primo a puntare il dito contro mio padre se avessi visto una prova contro mio padre che mi avrebbe fatto sorcere il naso ma ad oggi io non posso dire nulla contro mio padre assolutamente mio padre si è sacrificato mio padre ha sacrificato 74 anni della sua vita per i suoi figli guarda mia dolore c'è dolore penso tutti quanti anche chi sta ascoltando questa tua storia questo è un atto di dolore nello senso della parola cioè è una specie di inferno in cui ti sei infilato vi siete infilati come vittime anche voi in realtà di questa storia perché allora qual è l'obiettivo insomma di tutto ciò l'obiettivo è che le indagini non vengano fermate così salvo assolutamente ma appunto da quel che sappiamo ancora le indagini sono in corso se si decidono ad archiviare noi la prima cosa che faremo è ci occorremo perché prima ci faremo una bella lettura passeremo tutti tutti i giorni che c'è di tempo che abbiamo prima per poter presentare l'opposizione a leggerci questo benedetto fascicolo per vedere cosa è stato fatto chi ha detto cosa e tutto il resto quello che dico io è date io chiedo alla procura di dare visto che loro in sette anni e quattro mesi non sono riusciti a concludere nulla date a noi famiglia a me al mio avvocato e alle persone che mi stanno accanto la possibilità di vedere se scopriamo qualcosa in più attraverso tutto quello che c'è dentro il faldone perché secondo me la verità se le indagini sono state fatte è lì dentro guarda chiudiamo così c'è una nostra ascoltatrice anche te la spero ascoltatore 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 che dice non siete soli siamo con voi per quello che possiamo mi auguro sia di aiuto a te e la tua famiglia salvo ed è così a noi seguiremo noi seguiremo come ora ma continueremo a seguire questa storia in tutti i casi te lo promettiamo seguiamo e siamo disponibili in ogni momento per te perché tu possa dire tutto quello che pensi o che viene a sapere anche perché interessa ovviamente a noi tutti a chi e che ascolta in generale per la ricerca della verità perché questo è del nostro programma non lo stiamo cercando colpevoli non stiamo non stiamo sostituendoci agli investigatori non facciamo non ho mai puntato il dito su nessuno dicevo anche questo a igor io mi sono evitato in questi anni e denunce di ogni tipo perché non ho mai puntato espressamente il dito su chi che sia mai mai noi cerchiamo le mie ipotesi le mie ipotesi me le tengo per me sono mie e un giorno e poi scritte non scritte quello è un giorno vedremo se mi sbagliavo o no igor beh io credo davvero che l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è appunto intanto aver raccontato questa storia e poi stare accanto a salvo ventimiglia sperando che esatto questa ingiustizia perché poi voi immaginate anche dove siamo adesso insomma io non voglio fare quello che dice che lì che la sicilia però insomma voi provate a immaginare bagheria non è una grande città è una città di 50 60 mila abitanti ora lì un po tutti si conoscono io ho sentito ho ascoltato dei servizi giornalistici che sono stati fatti dai nostri colleghi alcuni ma anche molto bravi dove si fanno battute dove si dice non si dice per non parlare di episodi incredibili che sono accaduti e che ora eh appunto anche per perché stiamo chiudendo è inutile ehm eh mettersi a parlare però ecco c'è una forma di ingiustizia profonda perché eh la famiglia di salvo a non solo non ha avuto la verità no ma eh almeno da quello che si è riusciti a capire eh ha dovuto subire anche diciamo le le attenzioni investigative giuste per carità io non dico nulla poi però però insomma tutto questo certo non ha fatto bene tu perdi una figlia una sorella eh e dopodiché no la madre di un bambino la madre di un bambino dopo che ti vengono ad indagare quanti anni ha salvo quanti anni ha il figlio di Giuse adesso adesso ne ha ventiquattro quindi un uomo quattro anni c'è quindi un uomo e c'è ne aveva diciassette quando è scomparsa sua madre ne aveva diciassette non voglio neanche pensare al dolore di quest'uomo che vabbè allora una canera è spietata i fatti sono spietati e questa è una storia spietata davvero grazie salvo grazie a voi grazie a due grandi professionisti grazie davvero grazie a te